Buon viaggio dalla redazione di Flores Multimedia in studio Mauro Ciutini. Traffico scarso in questo sabato pomeriggio. Attenzione al forte vento segnalato in A15 tra Berceto e Pontremoli. Due controlli di velocità segnalati in A1 tra Rezzo e Monte San Savino direzione Roma nella direzione opposta tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Rallentamenti causati da lavori sul raccordo Siena-Firenze tra lo svincolo di Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Rallentamenti sulla Grosseto-Fano dovuta ad una frana tra Alberoro e Montagnano. Infine veniamo ai lavori per la tramvia Firenze previsti dal 20 al 25 marzo di vieti di sosta e restringimenti di carreggiata in via Alderotti. Muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a più tardi. Grazie a tutti.